La vita è il concetto di evoluzione, la via della conoscenza attraverso Attilio M, una voce. La vita è flusso e effimero e poiché voi uomini temete l'effimero, tentate di contenere quel flusso e di dargli un significato che possa adattarsi alle vostre strutture mentali, anche se quel flusso è inarrestabile, arriva e va. Comunque ogni volta vi sforzate di trattenere la vita, appiccicandole le vostre etichette per renderla compatibile con i contenuti della vostra mente e quindi intrappolando quel flusso nei vostri concetti, che sono barriere a difesa dell'effimero. Creare concetti vi serve per appoggiare veli dopo veli sopra la vita, impedendovi di incontrarla per quello che è. Provate ora a dirci qual è in voi quell'ultimo velo duro a morire, un velo che persiste. Partecipante, è il bisogno della propria identità? Una voce. Su che cosa si fonda l'identità di un uomo che mette in campo i suoi sforzi per percorrere una via che chiama evolutiva, convinto che sia importante utilizzare la vita per il proprio evolvere? Stiamo parlando di un uomo che ha interiorizzato l'importanza di osservarsi nell'agire e di cogliere in sé i limiti attraverso i quali si contraddistingue dagli altri, per poter lavorare su di essi e fare quel passo in più. Perché quell'uomo fonda la sua identità sull'individuare gli ostacoli che si verpongono al proprio progredire e sull'indirizzare i propri sforzi verso una trasformazione interiore, avendo costruito la sua identità sull'attribuirsi i limiti rendendoli il punto centrale del suo essere in cammino. Continua